Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti è avvenuta diverse settimane fa, ma i fan della coppia non hanno ancora perso le speranze di una riconciliazione. Gli ultimi post sui social dei due ex fidanzati hanno infiammato il web. In particolare, due stories pubblicate su Instagram hanno suscitato molte discussioni tra i fan. La prima riguarda Anita Olivieri, compagna di avventura di Mirko e grande amica di Perla. Un selfie che li ritrae insieme durante la Milano Fashion Week ha sorpreso e deluso molti fan che non si aspettavano di vederli così vicini. Ma la vera tempesta è scoppiata con un'immagine che mostra Perla Vatiero e Alessio Falzone insieme, sorridenti e complici. Questa foto ha fatto il giro del web, considerando che tra i due c'era stato un flirt durante il reality e che Alessio era stato indicato come possibile causa della rottura tra Perla e Mirko. La reazione di quest'ultimo è stata piuttosto diplomatica, limitandosi a ripostare la foto con Anita, ma il gossip su Perla e Alessio è tornato prepotentemente alla ribalta. La situazione è diventata ancora più complicata, considerando che Alessio aveva scelto Anita all'interno della casa, ma la loro relazione è naufragata al di fuori di essa. La presenza di Alessio nella vita di Perla ha scatenato un vero putiferio tra i fan, mentre Mirko sembra mantenere una posizione neutrale. La storia tra Perla e Mirko potrebno è stata piuttosto un'imitazione di QTSS. La storia tra Perla e Mirko è una posizione di QTSS. La storia tra Perla e Mirko è un'imitazione di QTSS. Grazie a tutti.